Sì, 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 certo, ho capito, sì, 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 certo, ma sì, tutto, certo, ma scusa, tu cosa fai per cambiare le cose? Sì, perché, comunque, no, lo capisco benissimo, però parlarne, a cosa che porta, se non amplificare, cosa fai? Sì, o comunichiamo questo malestero, sì, ma cosa fai a chi lo comunichi? Sì, ti confronti, lo capisco benissimo, però io direi che dovremmo uscirci la legge del fare, del fare, sì, che è comunicare, sì, lo sappiamo oramai, le cose sono davanti ai nostri occhi, la legge del fare significa piantare alberi, significa abbellire, prenderci noi cura di ciò che ci è stato affidato, perché c'è, ma solo di sé, io credo che siamo sotto ostaggio, ma in che senso, scusami, nel momento in cui ci viene chiesto di liberare la costa dei Lidi, i nostri politici si battono per i Lidi, perché è tutto un meccanismo, cioè, così funziona, così funziona, i fondi, guarda, è una pesentezza che è solo un silenzio intenso, sì, silenzio intenso. Grazie.